I controllori di volo dello scalo comisano saranno coperti dalla finanziaria regionale. Lo ha annunciato il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta. La proposta di governo è già stata inserita nella finanziaria regionale e passerà ora al vaglio in questi giorni. Fa un respiro di sollievo l'aeroporto di Comiso, dato che il prossimo 30 maggio scadrà la convenzione ENAP per servizi di assistenza al volo al Pio La Torre. Un finanziamento che arriva proprio a pennello, dato che il Piano Nazionale Aeroporti, che includerà anche Comiso, in attesa della firma del presidente dello Stato, Mattarella. Molto soddisfatto è il sindaco comisano Filippo Spataro, che si è molto speso perché arrivasse un finanziamento regionale che coprisse la spesa fino all'approvazione dell'accordo di programma del prossimo anno. Si attende ora l'approvazione della finanziaria, sperando fiduciosi che non ci siano sgradevoli sorprese.